Il centro cittadino ma non solo è quasi un cantiere a cielo aperto. Si moltiplicano i lavori sulle principali strade del Murattiano con inevitabili disagi per gli automobilisti e traffico in tilt. È uno degli effetti del PNRR. Al momento sono in corso principalmente i lavori delle aziende e dei sottoservizi. Solo è distribuzione a cinque cantieri in corso, tra questi uno in via Andrea da Bari con restringimento della carreggiata e traffico alternato e uno in via Nicolò dell'Arca dove stanno per iniziare anche i lavori da parte di Rete Gas. Stanno avendo grossi finanziamenti nell'ambito del PNRR e stanno quindi approfittando per rifare in alcuni casi o migliorare tutte quante le reti che hanno nella città di Bari. Si poteva evitare la contemporaneità dei cantieri? No, purtroppo noi facciamo sempre delle riunioni di coordinamento e cerchiamo assolutamente per quanto possibile di coordinare, però tenete conto che i tempi del PNRR, come sapete, sono piuttosto ristretti, prevedono il completamento dei lavori entro giugno del 2026 e quindi è chiaro che queste lavorazioni, che poi porteranno degli indubbi vantaggi a tutti quanti i cittadini in termini di fruibilità degli stessi servizi, non può che essere fatta velocemente quindi in questi prossimi due anni. Scavi in corso operai al lavoro anche su via Quintinosella dove i cantieri si moltiplicano lungo la carreggiata in diversi tratti per lavori commissionati da ACUPI. Al termine di questi cantieri si procederà con il rattoppo dell'asfalto e solo dopo un periodo di assestamento si interverrà riasfaltando la sede stradale. Tutti quanti queste autorizzazioni prevedono il rifacimento totale e complessivo dell'intera carreggiata stradale. A breve inizieremo per esempio nella prima settimana di ottobre con il rifacimento dei primi isolati di Via Dante a partire da Via Brigata Regina dove interverranno in parte la società AMGAS e in parte praticamente la società ACUPI che hanno rifatto totalmente le loro reti.